Riuscirete a passare la roba nel Gobbo? Lo portano avanti alla velocità possibile, normalmente ai titoli di 7G24. Vediamo se riuscite a mantenere il passo. L'ondata di Matempo sull'Italia. Ritrovati 4 cacciatori di spessi in Sardegna. A letta fino a domani anche Veneto, Toscano e Lazio. Emergenza coronavirus in Italia poco più di 7.509.36 modi. 1.7%. La quarta data del virus, poi la roba da domani, la black down, SkyG24, la quarta data della coppa 26 su Kripa Johnson e un punto 18 storica, abbiamo la violenza e le torture del cancere di Sardegna. Poi stop alla fila di domani del 6.509, giusto? No, è difficile.